Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Lei è stessi E noi siamo? Le stessi Prima di iniziare questo video volevamo dire di Iscrivervi al canale Attivando la campanellina E lasciando un bellissimo like a questo video Quindi senza perdere tempo Ciao Si inizia Come vedrete dal titolo oggi faremo una compilation di scherzi Inizieremo il primo scherzo dando fastidio a mio padre al pianoporte Quindi iniziamo Allora Ma passate qua stessi Ma passate qua Ma passate qua Ma passate qua Ma passate qua Ai stessi Vai 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 si sta girando perchè non vede dove stiamo vai mettiamo allora il primo scherzo leggero è riuscito benissimo quindi ci vediamo ai prossimi scherzi al secondo scherzo quindi a dopo